Gentili telespettatori, buona giornata. C'è una cosa della politica che proprio non mi va giù. Che se vai a genio a qualcuno ti devono dare una poltrona per forza. O qua o là. Devi diventare un poltronaro. Allora, Morgan viene sponsorizzato da Sgarbi. Si vede che a Sgarbi sto Norman piace molto. Lo voleva al ministero come una sorta di consulente, ma il ministro Sangiuliano dice no. E allora Morgan Bocciato adesso Sgarbi ha l'idea di dargli un programma in Rai. Cioè, lo deve piazzare a tutti i costi. Abbiamo assistito a quella cosa che mi ha fatto una pena tremenda. Il Berlusconi che doveva piazzare l'ex infermiera Ronzulli e farla diventare ministro di qualcosa. Mamma mia. Quella è stata una cosa veramente... non saprei come descriverla. Proprio... in stile proprio berlusconiano. E adesso vediamo che Morgan Bocciato dal ministro, allora Sgarbi ha l'idea di dargli un programma in Rai. Un programma in Rai. Allora, non so... non so che cosa Sgarbi ci veda in questo Morgan. Io personalmente, personalmente, l'ho sentito parlare, gli ho sentito fare dei ragionamenti, quando gli dovevano togliere la casa, pignoramenti, eccetera eccetera. Ho visto qualche trasmissione dove lui parlava e ragionava. Quando l'ho sentito parlare e ragionare sono rimasto un po', un po' così, eh? un po' perplesso. Un po' perplesso. Quindi immaginare di vedere Morgan assunto al ministero come consulente mi era sembrata una roba che non si poteva ascoltare. E per fortuna non è avvenuto. Oggi Sgarbi ha l'idea di dargli un programma in Rai. Beh. Sarà un cantante, sarà un artista, sarà amico di Sgarbi. Però a me questa cosa, che gli amici o quelli che ti vanno a genio, gli devi trovare una poltrona, non è una bella cosa da sentire. No. Non è una bella cosa da sentire. Morgan non l'ha presa bene quando non lo hanno nominato a consigliere per la musica. Consigliere per la musica. Morgan aveva già fatto la sua prima dichiarazione pubblica. Nelle radio, più musica italiana e meno straniera. Farò delle leggi dove saranno le emittenti radiofoniche, dovranno trasmettere una certa percentuale di musica. Farò, dirò. Forse ti avrebbero assunto come consulente per la musica, consigliere per la musica. Era la nomina consigliere per la nomina, per la musica. Lui era già partito nelle radio italiane. Vedete, non ha idea, non ha idea questo signore di tante cose, non ha idea. Mi ricordo che diceva di lui di suggerire il programma a Giorgia Meloni. Il programma di governo lui lo suggeriva a Giorgia Meloni. Infatti Giorgia Meloni aveva dichiarato Ma realmente non è Morgan che mi suggerisce il programma. L'aveva detto in maniera molto gentile perché probabilmente si conoscono e non voleva proprio mandarlo a quel paese. Però questo Morgan ha insistito nei giorni successivi No, io consiglio alla Meloni di fare questo, io con Deve fare... Per quello che vi ho detto, l'ho sentito ragionare più di una volta. Proprio parlare di diverse cose. Queste ultime poi che vi ho raccontato, sono io che faccio il programma, che suggerisco... Secondo me non va bene neanche dargli un programma in Rai. Ma manco proprio per niente. Allora, i fatti. Questa sera vedrò il ministro della cultura Gennaro San Giuliano Per dare un futuro a Morgan Cercheremo di dargli quello che merita Cos'è che merita? Ma lo merita perché? Perché ti sta simpatico? Perché lo merita? E gli altri 59.999.000 italiani non meritano un programma in Rai? Anche il mio vicino di casa lo vedrei bene con un programma in Rai, no? Por lì giumenta... Potrebbe fare un bel programma in Rai, no? Così Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato alla Cultura Due giorni fa Parlava proprio di dare un futuro a Morgan Dargli quello che merita La nomina di Morgan Che nome d'arte Lui è Marco Castoldi A consigliere del ministro Sembrava cosa quasi Fatta Invece giovedì era arrivata la notizia Il ministro della cultura Ha nominato Beatrice Venezzi Direttrice d'orchestra Consigliere per la musica Oggi la reazione di Morgan a botta calda È stata di grande tristezza Dice Ho pianto per l'umiliazione Umiliazione? Ma scusi Marco Castoldi Lei sa cosa vuol dire umiliazione? Nominano una persona Puoi essere deluso Ma umiliazione è un'altra roba Per quello che vi dicevo L'ho sentito ragionare Su dai Poi dopo che si è lungamente confrontato con Sgarbi Lui si è rasserenato Dai che ti sei rasserenato Dice San Giuliano ha privilegiato la musica classica Dice Sgarbi E così Dice Io potrei già stasera nominare Morgan Mio consigliere Ma non mi interessa Mi pare altamente riduttivo Fargli fare il segretario del sottosegretario Io non ho bisogno di una persona Intelligente e sveglia Per fare il segretario Lui merita di più Lui deve avere un ruolo attivo Fattivo Quindi secondo Sgarbi Per fare il segretario Non devi essere Né particolarmente sveglio Né particolarmente intelligente No? Perché no Morgan Così intelligente e sveglio È sprecato Per fare il segretario di qualcuno Lui merita di più Lui deve avere un ruolo attivo Fattivo Ecco Dice Abbiamo conversato più di un'ora Per prima cosa Gli ho detto di chiamare Beatrice Venezzi Perché insieme potrebbero fare grandi cose Come Ma cosa dici? Un progetto congiunto Tra lirica e rock Ma per favore E poi dice Magari Morgan Dovrebbe avere un ruolo Nelle università E certo Nella formazione della cultura Assolutamente No Vabbè E poi A parte l'università Dice Sto pensando anche un programma Rai Per lui Vabbè Insomma Sgarbi è diventato Un promotore Di conoscenti amici Da piazzare il Rai Al ministero Come Berlusconi Con la Ronzulli Che brutta politica Signori miei E signore mie Che brutta 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 politica Grazie a tutti E buon Proseguimento di giornata